Grazie a tutti Grazie a tutti Salü Guter Flug Merci Das heisst übersetzt Digi von Tom ist hier erfolgreich gestartet Grazie a tutti 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 Ora vediamo se si è riuscita In questo caso c'è un indietro che si arriva Questo è un po' niente Allora Ehi 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 In your day Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì Come, anni, stuffa, p Georgetown Sì, sì C'è un crema? Ma come? C'è? Ah, adesso hanno anche l'interno di Klappe, per quanto riguarda. E qui anche un po' di solito. Oh, non è bene bene. E' un po' di nuovo. Sì, è un po' di più. È un po' di più di un po' di un po' di più. È un po' di più. ora non è un po' di no ma non è normale ma non è normale perché non è ancora più non è una volta la nuova off poi è a fare qui sono ancora la mia cibo non c'è Questo è stato un agressivo spettacolo. Ah, adesso vedo la Toma. Ah, ecco. come riusci come riusci Tom è arrivato e questo è tutto ora guarda in la direzione 3 metri, 2 metri, 3 metri Touchdown! No there state! Yeehoohoo! Come isch g'stange ben landi Grazie a tutti Ah, son Mi hava anche la velocità Noi Ah, è già un po' di vento Sparare? Sparare? Sparare 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 ... 50 metri all'interno e non c'è un po' di pelle Grazie. Grazie. Hallo. Hä? Ah, wunderschön gewesen. Schöne Landung. Ja, ich bin jedes Mal wieder überrascht über das kleine Hügelchen, das hier noch im Feld ist. Dann hörst du die Bremse und dann siehst du mal die Bodenhülle auf dich zukommen. Ja. Bei mir auch. Ah, sie hat sich dagegen entschieden. Ja. 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 Ja.